Se come prima cosa vedete la mia faccia chiudete subito questo vlog, meglio star così Buongiorno, oggi è domenica e ho preferito iniziare coperta perché ho avviso che non si può guardarlo quindi è stato meglio non farvi spaventare all'inizio non lasciatemi ingannare dalla mia mise, oggi è una tipica giornata invernale solo che io anche di domenica ho deciso che mi devo allenare quindi sono pronta sto solo bevendo un caffè e mi sono detta apriamo il vlog e poi inizio sì ho deciso di allenarmi anche oggi perché ieri ho mangiato la pizza e vorrei un po' smaltire è meglio farlo, tra l'altro sono certa che fra poco arriverà il caldo pazzesco e mi sarà più difficile allenarmi quindi cerco di approfittarmi in questi ultimi giorni di temperature basse per fare di più niente, programmi della giornata innanzitutto, vabbè, dopo vado da mamma quello è il programma della domenica imprescindibile dopodiché ho una montagna di roba da stirare quindi va fatto perché ho tutte le cose sulla sedia in camera da letto e non riesco più a vederlo in quel modo quindi devo stirare dopodiché devo stappare dalle microagenda e lavorerò un pochino alla nuova mia agenda perché non voglio arrivare come al solito che poi succede qualche intoppo nelle ultime settimane devo evitare di darne l'uscita, no? e poi mi dovrei rifare la tinta perché io l'ho fatta da abatto scorso però quella nuova tinta che vi avevo fatto vedere, quella della Dixon terribile, terribile cioè sono piena di capelli bianchi come se non l'avessi fatta e quindi vi torno alla mia tanto ce l'ho e dovrei rifarla perché davvero sono piena, 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 piena in realtà stavo pensando di andarla a fare dal parrucchiere per questa volta però boh, rimando alla prossima prossima settimana arriva il ciclo tempo che prendo l'appuntamento non mi vengono bene col ciclo quindi preferisco per questa volta me li faccio io e poi più in là me li faccio fare da lui magari va bene basta chiacchiere io vado in pratica questa domenica è diciamo già quasi passata già quasi finita ci siamo lasciati stamattina quando mi sono svegliata e ci ritroviamo ora che ho fatto tutto quello che vi avevo detto ho stampato le microagenda mi sono fatta la tinta finalmente non mi potevo proprio vedere in quel modo ho stirato e mi sono fatta anche mezz'oretta di riposino quindi tutto a posto, tutto perfetto adesso sono pronta perché vado a fare un giretto quanto pare bisogna abituarsi alle riaperture ma da che? io almeno finché non mi faccio il vaccino alla vita normale non ci torno perché mi sentirei abbastanza stupida a prendermi il virus ora però vado a fare un giretto poi non so se ci vediamo dopo direttamente domani vediamo buongiorno è lunedì mattina ed io mi sono già allenata docciata sistemata fatto ordine in casa registrato il video per questa sera adesso vado a chiudermi in craft room questo lunedì l'ho iniziato all'insegna del fare e ho intenzione di continuare così quindi noi ci vediamo dopo io vado a chiudermi in craft room ed ho appena finito di disegnare il personaggio della bustina di maggio stavolta sono stata brava ecco qui è una petta solo che adesso non so che nome darle me lo date qualche suggerimento intanto ve la faccio vedere guardate quanto è caruccia ci devo pensare un po' buongiorno è martedì mattina e oggi sembra essere una bellissima giornata di sole speriamo che duri anche se fa freschetto però diciamo che è l'ideale per allenarmi e quindi vado subito tanto ho già fatto colazione sono le 7.30 mi vesto e mi alleno così iniziamo la giornata con credito di calorie anche se muoio di sonno però stamattina stavo benissimo nel letto avrei evitato proprio di alzarmi però ho tante tante cose da fare e poi non vorrei perdere il ritmo a svegliarmi presto perché io lo so che mi basta un giorno e ricomincio a svegliarmi tardi quindi niente vado noi ci vediamo dopo ed ecco mi pronta prontissima per iniziare a lavorare programma del giorno devo prenotare delle spedizioni per domani concludere due ordini di stickers chiudere la confezione della microagenda di Patrizia che ha vinto che ancora non l'ho spedita perché ho accumulato tutte le spedizioni per domani chiudere un'altra microagenda ne devo fare due e quindi adesso mi devo proprio dare una mossa ci sono quasi ho stampato tutto quello che dovevo stampare ho finito tutti gli ordini che avevo in preparazione tranne la microagenda che dovevo fare oggi però è stampata la sto mettendo sotto pressa tra l'altro ho già pronti gli ordini che dovrebbero partire domani ma oggi SDA deve venire a consegnarmi una cosa quindi se sono fortunata riesco a dargli pure gli ordini per domani così mi tolgo il pensiero ecco qua facciamo così avevo messo qualche video su YouTube di sottofondo allora finché passano i video delle mie amiche tutto ok ma se ma lavoratamente arriva perché metto riproduzione automatica di modo che va e mi tiene compagnia il video ma quando arrivano i video delle YouTube grandi ormai sono diventati praticamente tutti e solo pubblicità ma non solo la pubblicità di YouTube che va bene io quella la capisco però puoi fare un video di 10 minuti con 10 pubblicità e all'interno delle 10 pubblicità tu stai sponsorizzando 10 prodotti diversi cioè sei proprio andata a perdere il senso di YouTube era bello YouTube all'inizio perché era un'alternativa alla TV piena di pubblicità adesso è diventata tutta una televenita infatti ho staccato preferisco stare senza niente ok pressa è pronta dove la metto? me la metto qua sotto ok e adesso mi metto a lavorare un pochino alla nuova mia agenda in attesa che arrivi dovrei andare a prendere delle cose giù in magazzino perché praticamente vi spiego questione sedia lei se ne deve andare perché altrimenti finisce che ci cado però ho un po' di spese al momento da affrontare che sono più urgenti della spesa sedia e quindi ho pensato di andare a riprendere la sedia che avevo prima che è a poltrona però almeno è comoda e non mi fa male la schiena perché ieri quando mi sono alzata avevo un mal di schiena pazzesco perché ormai la sedia sta così perché se si è piegato proprio il ferro questo vi fa capire quanto peso e quindi ho deciso di andare a riprendere la sedia che mi aveva regalato il mio papà tra l'altro mi fa anche piacere tenermela qui in questo periodo anche se non ha le rotelle mi arrangio come facevo prima e almeno per ora comunque so di avere una sedia buona sotto il sederino e almeno per ora farò così perché ho delle spese vorrei comprare un nuovo macchinario qui per fare delle cose nuove ho l'assicurazione della macchina da pagare ho le bollette che sono arrivate insomma la spesa che posso evitare al momento è quella della sedia quindi dovrei andare giù ho fatto un volo pindarico dovrei andare giù in magazzino e riprendere quella sedia però ho paura perché sto aspettando il corriere non vorrei dato che giù il telefono non prende non vorrei che il corriere arrivasse io sono giù e non mi trovo e quindi devo aspettare poi scendo dopo adesso mi metto a lavorare un po' alla mia agenda nuova alla grafica vediamo cosa mi viene se mi viene fuori qualcosa è giunta l'ora di pranzo e oggi ho deciso che mi preparo semplicemente una caprese adesso taglio tutto a pezzettini e poi faccio pappa perché ho tanta fame adesso cucù è qui pronta velocissima fresca anche se stava meglio con la giornata come era all'inizio stamattina e non come ora che è diventata di nuovo una giornata invernale però che dobbiamo fare questa primavera ha deciso di non arrivare poi schiatteremo di caldo direttamente a 40 gradi verso metà maggio sicuro segnatemelo io già ve l'ho detto buon pranzo come voleva si dimostrare sono quasi le 17 e il corriere ancora non è passato settimana scorsa che sono uscita il corriere è passato di mattina questa settimana che sono in casa niente e io nemmeno la sedia sono andata a prendere ancora quindi questo significa che oggi concludere la giornata con un altro mal di schiena anche se ci sono stata più attenta e mi sto alzando più spesso niente io sono qui per chiudere questo video e per salutarvi perché è già abbastanza tardi sarebbe ora di editarlo spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video è tutto se vi va ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ciao